stavamo dicendo di questo dato di fatto se uno conosce un po la storia della bioetica che i primi pionieri della bioetica in buona parte non tutti poi vedremo ma in buona parte sono stati dei teologi o dei cattolici medici come hellegris eccetera formati anche teologicamente comunque formati con la dottrina cristiana cattolica poi vedremo con quali atteggiamenti con quali impostazioni però dice questo autore shell è mancato una fondazione delle loro motivazioni teologiche nel fare la bioetica ed è mancata anche una evidenziazione di quale contributo la teologia possa dare alla bioetica e in parte è uno degli obiettivi del nostro corso vedere come si può illuminare le questioni di bioetica che ripeto si trovano nella nostra società nel nostro dibattito pubblico e la troviamo nel servizio pastorale tutti i giorni come possono essere illuminate queste questioni dal punto di vista anche teologico o principalmente teologico volendo allora andiamo a vedere subito quali sono gli obiettivi che pretendo io che raggiungiamo in questo corso che troverete poi nel syllabus lo stavo ritoccando un pochettino poi lo metterò nella sezione generale dell'aula virtuale allora innanzitutto viene formulato corsino il syllabus si spera che alla fine di questo corso gli studenti uno conosceranno in maniera essenziale che cosa è la bioetica la sua storia il suo statuto epistemologico eccetera cioè dovremmo fare un dedicare un tempo a parlare sulla bioetica parlare di bioetica per almeno avere una conoscenza basica lì di scrivo essenziale su che cosa sia la bioetica come è stata come nata come viene impostata quale suo statuto epistemologico eccetera secondo si spera che gli studenti alla fine del corso avranno arricchito la loro comprensione questa volta della teologia morale e del suo ruolo in questione etiche di natura razionale voi state facendo una licenza in teologia morale l'idea di questo corso è anche quella di aiutarvi ad approfondire ulteriormente la vostra disciplina la comprensione della teologia morale nel vedere il confronto con le questioni di bioetica questo binomio teologia e bioetica in qualche modo siamo invitati ad approfondire non solo la bioetica ma anche la teologia morale e specificamente il ruolo della teologia morale nelle questioni di bioetica ma più ampiamente nelle questioni etiche di natura razionale che sono tantissime in tanti ambiti non solo nell'ambito bioetico pensate alla sessualità alla famiglia all'economia alla giustizia sociale sono questioni che vanno vengono di fatto e vanno nel senso devono essere analizzate razionalmente ma allora che ruolo ha la teologia morale in queste questioni perché aggiunge qualche cosa che come può aggiungere veramente qualche cosa alla riflessione etica su questioni abbordabili illuminabili con la sola ragione terzo obiettivo gli studenti avranno approfondito alcune tematiche tipiche della teologia morale alla luce del confronto con la bioetica quali la specificità della morale cristiana il ruolo della sacra scrittura e del magistero nelle questioni morali eccetera sono questioni tipiche della vostra disciplina della teologia morale e invitati quasi provocati dal confronto con le questioni bioetiche veniamo sollecitati a riflettere di nuovo forse con una prospettiva un po diversa da quella finora avuta queste questioni tipiche della teologia morale quale appunto la specificità della morale cristiana veramente la morale cristiana aggiunge qualche cosa in relazione alla morale meramente razionale o di altre tradizioni religiose perché se non aggiunge niente allora che apporto può dare una riflessione teologica per quanto riguarda i contenuti secondo la posizione per esempio di joseph fuchs eccetera non apporta niente di specifico non c'è una specificità morale e allora se è così vabbè facciamo bioetica o facciamo su teologia su altre cose ma non su queste questioni bioetiche di morale razionale poi conosceranno gli studenti alla fine del corso alcune delle questioni bioetiche più attuali alla luce soprattutto del contributo che la teologia può offrire andremo dunque nella seconda parte per così dire del corso ad affrontare alcune questioni che decideremo un po insieme della bioetica attuale ma cercheremo e questo sarà un esercizio importante di illuminare queste questioni con la teologia dunque con gli strumenti che la teologia morale ci offre e finalmente gli studenti avranno perfezionato la capacità di illuminare con la fede e con la ragione le questioni bioetiche etiche ed etiche in generale bioetiche e etiche potenziando così la loro capacità di argomentare e di guidare le coscienze cioè si tratta dunque di fare un esercizio grazie al quale io spero perfezioneremo la nostra capacità non solo conoscenze un po che il punto anteriore ma la capacità come ragionare come apportare qualche luce a partire dalla scrittura come usare la scrittura per una questione etica che di legge naturale che di morale razionale come interpretare i documenti del magistero applicandoli a queste questioni eccetera e dunque questo dovrebbe aiutarci a migliorare nella nostra capacità da una parte di ragionare dall'altra di argomentare cioè ragionare per l'altro e finalmente di guidare le coscienze e dunque quando dovremmo affrontare queste problematiche con i nostri fedeli con i nostri seminaristi con i nostri compaesani con chi che sia ecco si spera che grazie a questo corso e all'esercizio che avremmo fatto nel corso saremo più capaci di farlo e un po da questo nasce lo schema del corso che possiamo suddividere in due grandi parti prima questioni generali e poi questioni specifiche di bioetica questioni generali avremo una introduzione alla bioetica che cosa è eccetera eccetera definizione natura metodologia conoscere quel mondo perché lo facciamo perché io suppongo spero che la supposizione sia corretta che conoscete bene l'altro mondo l'altra l'altra parte del binomio cioè la teologia morale quella la conoscete non necessariamente conoscete la bioetica allora andiamo a vedere un attimino prima di tutto cosa è la bioetica come si fa la bioetica eccetera e per conoscere anche questo per conoscere la disciplina andremo a vedere un po brevemente una storia della bioetica capire perché è nata come è nata con quali impostazioni eccetera poi andremo sempre le questioni generali ad affrontare il rapporto tra teologia e bioetica quel rapporto che vediamo che abbiamo appena accennato non è sempre liscio non sempre tranquillo non è sempre scontato vedremo come i teologi di fatto si sono occupati di tematiche di bioetica e in quale modo e parleremo rifletteremo sul rapporto tra teologia bioetica che rapporto ci può essere ci dovrebbe essere tra queste due grandi discipline vedremo alcuni problemi di questa relazione tra questi due mondi ci soffermeremo un attimino specificamente sulla specificità della morale e della bioetica cristiana possiamo parlare di una bioetica cristiana di una bioetica cattolica ci sono libri c'è un manuale di bioetica cattolica di william may dunque si può intitolare così un libro ma la luce della visione cristiana cattolica veramente apporta qualche cosa di specifico come contenuti come illuminazione o solo come ispirazione di fondo come dicono alcuni autori vedremo il rapporto tra la sacra scrittura e la bioetica può la sacra scrittura aiutarci ad illuminare i problemi di bioetica certamente la sacra scrittura probabilmente non parla di trapianti di organi almeno io non l'ho trovato non parla di fecondazione in vitro non parla ma neanche di eutanasia non parla neanche di suicidio cioè non condanna il suicidio non condanna l'aborto erano tematiche forse queste talmente scontate nel proprio ebraico che non c'era bisogno neanche di dare un comandamento su questo cioè ma si parla di non uccidere e di tanti altri aspetti che forse possono apportare qualche luce alla nostra riflessione teologica e bioetica ma come utilizzare come rivolgerci alla sacra scrittura per illuminare illuminare problematiche che certamente non erano nell'orizzonte tematico degli autori che hanno scritto quei libri sotto l'ispirazione di dio e finalmente un po la stessa cosa come rivolgerci al magistero come interpretare i documenti del magistero che ruolo può avere il magistero in questione di bioetica anche qui il magistero di fatto si pronuncia su questione di bioetica adesso anche papa francesco l'ha laudato si sulle queste cosiddette questioni ambientali tutta una branca della della disciplina della bioetica giovanni paolo ii su tante tematiche ma già più dodicesimo prima e allora di fatto il magistero universale cattolico si pronuncia pronunciato si pronuncia su queste tematiche ma un ruolo suo specifico come dobbiamo interpretare i documenti del magistero eccetera eccetera dunque vedete che c'è parecchia carne da mettere al fuoco in questa prima parte generale la seconda parte consisterà nell'andare insieme ad analizzare alcune questioni specifiche io enuncio qua alcune tra quelle più classiche ma ripeto andremo poi insieme a definire quale preferiamo studiare insieme si può parlare per esempio dello statuto dell'embrino umano sempre tenendo presente che l'idea è quella di illuminare questi problemi alla luce della teologia della fede della scrittura del magistero c'è l'embrino umano la sacra scrittura il magistero la riflessione teologica qualche cosa da dire su questo aborto stessa cosa riproduzione assistita come dicevamo la bibbia non ne parla è chiaro ma forse c'è una serie di elementi grazie ai quali possiamo illuminare anche questo problema trappianti d'organo stessa cosa tutta la tematica di fine vita come comportarci nei rapporti di una persona che si trova nell'ultima fase della propria vita se continuare o non continuare se giusto tentare ancora un ulteriore intervento terapeutico magari solo torturando inutilmente il paziente la vita è sacra ma come dobbiamo comportarci quelle situazioni le eutanasia succede esistito eccetera lo stesso tema dell'ambiente anche questo può essere eventualmente illuminato dalla teologia dalla riflessione cioè trattato teologicamente ripeto poi definiremo insieme i temi che andremo a studiare e lì si tratterà di fare appunto questo esercizio che poi vi spiegherò come che dovrà fare ognuno un piccolo studio presentarlo e poi faremo una riflessione insieme e anche quella che viene chiamata valutazione inter pares tra pari cioè gli altri valuteremo il lavoro di ognuno con un punteggio eccetera eccetera e rifletteremo su questo bene su questo quanto abbiamo detto finora c'è qualche domanda qualche osservazione che volete fare e se non c'è benissimo e allora passiamo a un'altra cosa sempre dentro questa introduzione che vi propongo un piccolo questionario è sempre a modo di impostazione del nostro corso cioè l'ho impostato io logicamente ma voglio anche che lo impostiamo insieme in base anche a quello che adesso vediamo in questo questionario allora l'idea è quella che voi entrate se non siete già dentro l'aula virtuale e andate alla sezione introduzione e impostazione e aprite questo questionario intitolato quanto sappiamo di bioetica allora vi prego di entrare e cliccare su questo link io entro ma entro dal lato docente logicamente dunque voi lo vedrete in modo un po diverso esatto e dice il vero e dice il vero perché non l'ho lanciato ancora adesso lo lancio e vi chiederò vi chiedo di rispondere alle domande che troverete sul vostro schermo sto anche proiettandolo ma voi risponderete dal vostro schermo dal vostro computer o anche volendo dal telefono allora io inizio il qui compare una prima domanda e vi chiedo di rispondere la prima è vero o falso ho fatto qualche corso di formazione in bioetica e ho studiato qualche testo sistematico in tema di bioetica è solo un'indagine basta rispondere sì o no le risposte sono anonime avete risposto 5 quanto sia quanti siete cinque che se trattavano sistematicamente sì cioè non che parlassero così ma tipo se fai morale della vita e intenzione di teologia sì esatto questo sì 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 allora come mai prima diceva 5 che avevano risposto adesso 2 ok sta raccogliendo risultati ah no scusate che dice quanti mancano non quante hanno risposto adesso avete risposto tutti siete in cinque allora abbiamo bene abbiamo uno due tre quattro che avete detto sì e uno che ha detto no e qui c'è però una cosa questa domanda ve la faccio così oralmente perché se io faccio io posso fare un corso su dignitas persone un corso su eutanasia ma non conoscere la bioetica come tale pensate che conoscete che cosa è la bioetica la sua storia la sua metodologia eccetera o solo avete fatto dei corsi ho studiato qualche testo su tematiche specifiche chi mi chi mi po risponde la bioetica o la storia solo qualche corso così lo stesso anch'io che ho risposto falso poi anch'io ho risposto troppo velocemente era che ho fatto anch'io bene questo interessante perché significa che effettivamente non so probabilmente sono stati anzi sicuramente corsi opzionali e dunque sono contento che avete già dimostrato una una vostra un vostro interesse su queste tematiche ecco ma probabilmente non conoscete invece quello che in bioetica chiamiamo bioetica generale i fondamenti le scuole la storia eccetera e dunque si probabilmente dedicheremo un momento in quella parte iniziale a trattare questa tematica cercando di non dedicare troppo tempo ma credo che sia opportuno entrare in quella tematica momentino allora una seconda domanda vi chiedo di scrivere separando ogni tema per con una riga e indicandolo magari per chiarezza con un trattino all'inizio quali sono le questioni temi problemi come volete chiamarli specifiche affrontate dalla bioetica che vi sembrano più importanti per il nostro corso tenendo presente gli obiettivi del corso indicare ogni tema in una riga preceduta da un trattino allora potete scrivere due o tre temi che pensate che per gli obiettivi del corso siano i più opportuni e dunque lì dovete scrivere e penso non so se voi vedete un bottone in via o una cosa del genere ecco vedo che qualcuno sta andando io adesso nascondo le risposte in modo che non influenzate gli altri non date idee non c'è bisogno di scrivere molte mancano due manca solo uno ecco avete consegnato tutti allora adesso ci presenta i risultati sinceramente non so in quale maniera li presenta con questo tipo di domande allora vediamo utente 1 quali sono le questioni il tema dell'aborto sopportuno soprattutto la nuova legislazione aborto inseminazione in vitro e la vita dal suo concepimento secondo trappianti di organo riproduzione assistita fine vita l'embreo in umano eutanasia fecondazione assistita l'embreo in umano aborto riproduzione assistita ok allora è costato che avete indicato alcune delle questioni più diciamo così classiche in quanto più di maggior impatto anche nella pastorale della bioetica salvo una questione un po più specifica tutte sono specifiche ma più particolare che quella dei trattamenti genetici e ormonali allora vedremo se magari chi ha scelto o chi ha indicato quello potrebbe sceglierlo come suo tema di questo parleremo più in là bene e andiamo a un'altra domanda queste invece sono domande attenzione aspetta fermo un attimino va bene rispondete queste sono domande di conoscenza allora i primi centri di bioetica furono creati nei primi anni 70 a metà del secolo scorso o nei primi anni 80 avete però un minuto per rispondere adesso 30 secondi prego avanti tutta manca uno è sempre lo stesso mi sembra ecco avete risposto tutti ecco vediamo un po i risultati allora tre di voi avete risposto nei primi anni 80 uno a metà del secolo scorso 1950 più o meno e uno nei primi anni 70 chi ha ragione secondo voi la maggioranza o uno dei due della minoranza logicamente ognuno penserà che ha ragione secondo quello che ha risposto secondo quello che ha risposto io vi posso dire che non è vero che è nata nei primi anni 80 e dunque dobbiamo optare tra le altre due possibilità o metà del secolo ventesimo o primi anni 70 cosa pensate prego potete sarà 70 sarà 70 o sarà come metà del secolo scorso ok allora attenzione la domanda dice i primi centri non dice quando l'umanità ha cominciato a riflettere su questi temi ma i primi centri vedremo a suo tempo nascono effettivamente nei primi anni 70 69 70 71 ok la bioetica viene eh indicata come nata nel nei primi anni 70 lì nasce questa disciplina con questi primi centri eccetera andiamo ad un'altra domanda non preoccupatevi questo vale solo l'ottanta per cento del voto finale allora un'altra domanda che è questa i tre vertici del triangolo metodologico proposto da Helios Grecia sono a le scienze empiriche l'antropologia e l'etica b l'etica il diritto e l'antropologia o c le scienze empiriche l'etica e il diritto cercate di rispondere non preoccupatevi è solo in gioco l'ottanta per cento del voto no questo logicamente non conta per il voto finale avete 10 secondi mancate 2 mancano coraggio 4 secondi 2 secondi ok allora mostriamo le risposte allora nessuno ha risposto le scienze mi pare no? qui abbiamo 3 e qui abbiamo 2 sì nessuno ha risposto le scienze empiriche l'etica e il diritto 3 avete risposto l'etica il diritto e l'antropologia 2 le scienze empiriche l'antropologia e l'etica la risposta corretta che vedremo dopo spiegando questo famoso triangolo metodologico che propone sgreccia è la seconda le scienze empiriche l'antropologia e l'etica vedremo che significa questo vi parla di un triangolo per fare bioetica nella quale da una parte ci sono i dati scientifici a seconda della tematica poi una visione antropologica la persona umana la sua dignità eccetera e in base a questo una riflessione etica che poggia sui dati scientifici e sulla visione antropologica mentre il diritto è un diritto non è non è sbagliatissimo la risposta il diritto centra anche ma non direttamente per fare la riflessione bioetica ma per fare una riflessione che viene chiamata di bio diritto o bio giuridica che ha a che fare con l'applicazione della normativa in relazione ai temi che la bioetica studia allora risposta corretta è data da i due che sono stati dunque la risposta corretta è la c va bene vediamo un po' ok allora un'altra domanda avete un minuto andrea che le girls era un teologo che alla fine della sua carriera si è occupato di bioetica era un ginecologo cattolico che si è occupato di bioetica era un filosofo cattolico interessato ai temi di bioetica dunque praticamente si deve scontato che si è occupato di bioetica ma si chiede se era un teologo un medico ginecologo o un filosofo sono domande per sondare un pochettino le vostre conoscenze di bioetica generale allora mancano due coraggio manca uno è sempre lo stesso mi sembra poi voglio vedere chi è allora termina domanda mostra le risposte allora è un filosofo cattolico uno risponde così è un ginecologo cattolico che si è occupato di bioetica 4 qui c'è una buona maggioranza nessuno ha risposto alla terza possibilità era un teologo alla fine della sua carriera si è occupato di bioetica allora effettivamente non era un teologo non era neanche un filosofo era un medico ginecologo avete indovinato o avete risposto ciò che sapevate? chi ha indovinato? è indovinato perché? non lo conosco non l'avevo mai sentita ah ok è un personaggio importante vedremo è anche una storia interessante la sua come crea uno dei primi centri di bioetica negli primi anni settanta e perché con quale atteggiamento in relazione all'umane vite eccetera eccetera bene andiamo alla seguente domanda simile domanda un altro personaggio Daniel Callahan ha fondato il Kennedy Institute of ethics non ha fondato nessun centro ma ha dato un impulso alla bioetica oppure ha fondato il Hastings Center probabilmente anche qui dovete cercare di indovinare mancano due uno sempre lui oh non lo so chi è zero ok termina domanda e mostra le risposte qui c'è una buona suddivisione delle opinioni allora Daniel Callahan che è un filosofo cattolico ha fondato il Hastings Center lo dice uno ha fondato il Kennedy Institute lo dicono in due e altri due che dice dicono che non ha fondato un bel niente cioè ha dato un impulso alla bioetica la risposta corretta è la prima ha fondato il Hastings Center a New York mentre il personaggio citato nella domanda anteriore Hellegers ha fondato il Kennedy Institute che sono i primi due centri in assoluto ad essere stati creati nella nascita della bioetica bene e andiamo manca ancora una o due domande il primo autore che ha utilizzato il termine bioetica è stato Aldo Leopold parlando dell'etica della terra Van Resselen Potter riferendosi a una scienza per la sopravvivenza oppure Frisjar presentando quello che ha chiamato l'imperativo bioetico 30 secondi ancora ecco termina domanda e mostra le risposte allora chi ha utilizzato per primo in assoluto la parola bioetica anche se in un'altra lingua che può essere inglese, tedesco, francese allora Leopold nessuno lo ha segnalato Potter riferendosi alla scienza per la sopravvivenza 3 e gli altri due Frisjar anche qui avete scelto così un po' per provare o avevate qualche idea su questo tema chi ha utilizzato per primo il termine bioetica? ho sentito parlare proprio di trafillo, di questa cosa, ma un pastime quindi mi sembrava appunto quel il fatto della, come si chiama? Poter Poter il concetto quello di Poter, mi sembra Sì allora è interessante perché di fatti fino a non tanti anni fa si diceva, si scriveva, si sapeva che il primo ad aver utilizzato la parola bioetica in inglese bioethics anzi quello che l'ha coniato, che l'ha creato la parola era Van Resselen Potter lui stesso dice che gli è venuto in mente un giorno una specie di illuminazione ha detto, ah ecco questo sarà il nome che daremo alla nuova disciplina bioethics ma in realtà poi si è saputo che c'era un precedente che quello di Frisjar che negli anni 30 1927, 30 eccetera in Germania aveva scritto in tedesco bioethic parlando, lo vedremo, dell'imperativo bioetico c'è l'imperativo etico proposto da Kant tratta ogni persona come fine e non solo come mezzo lui dice no, bisogna fare anche un imperativo bioetico dove l'imperativo consiste non nel trattare solo le persone come fine ma anche ogni essere vivente tratta ogni essere vivente come fine in se stesso da lì il bioethic l'imperativo bioetico questo è solo un dato di tipo così culturale che un bioeticista o uno che abbia una laurea in bioetica deve conoscere voi non necessariamente è logico e andiamo un'altra domanda questa facile anzi forse non tanto ma la risposta è vero o falso l'oggetto materiale della disciplina della bioetica sono tutte le condotte umane o atti umane è vero o falso sapete come non so se l'avete fatto così in qualche corso quando si pensa all'epistemologia all'interno di una disciplina si cerca classicamente di identificare oggetto materiale e oggetto formale lo vedremo dopo e quale sarebbe l'oggetto materiale della bioetica qui dice le condotte umane o gli atti umani questa affermazione è vera o è falsa? ok avete risposto tutti tutti avete detto falso prima unanimità allora uno che mi spiega perché ha detto falso perché non è vero che l'oggetto materiale della bioetica sono le condotte umane tutte le condotte umane le condotte umane in generale sono l'oggetto della teologia morale la bioetica si ristringe a questioni più etiche anche se dovrò approfondire esattamente che cos'è la bioetica però penso che deve essere un ambito più specifico esatto l'etica in generale e anche la teologia morale etica filosofica teologia morale si occupa come oggetto materiale delle condotte umane degli atti umani poi oggetto formale un'altra cosa ma non tutte le condotte umane sono oggetto materiale della bioetica la bioetica studia una serie una serie di ambiti di condotte umane che riguardano la vita da lì il nome di bioetica va bene lo vedremo dopo benissimo allora sono contento che avete risposto bene un'altra domanda per Van Resselen Potter appena citato qualche domanda prima la bioetica si riferisce a a una riflessione etica sui problemi della medicina b un movimento di idee a favore della vita umana c una scienza per la sopravvivenza della vita ecco ecco allora andiamo a vedere le risposte qui abbiamo uno che risponde che secondo poter questa è la domanda secondo poter la bioetica era è un movimento di idee a favore della vita umana e mentre quattro avete risposto una scienza per la sopravvivenza della vita e coloro che avete risposto questa seconda avete dato questa seconda risposta qualcuno può commentare perché avete risposto così l'avete conosciuto da qualche parte l'avete compreso questa idea veramente io l'ho ho risposto in questa maniera ricordandole la domanda precedente perché infatti io non conoscevo niente di questo dottore ah ok ok interessante viva la sincerità allora io era perché l'avevo sempre perché avevo sentito parlare in quel corso questo è un passo esatto sì allora effettivamente per poter però interessante la prima domanda la prima risposta non sarebbe neanche accettabile nel senso che lui non pensa tanto alla vita umana soprattutto non solo la vita umana ma ogni genere di vita l'importante è la sua preoccupazione era che si può rovinare con la biologia soprattutto la vita sul pianeta e dunque dobbiamo fare che la biologia faccia al contrario diventi una scienza saggia una wise biology e grazie a questa saggezza si promuova la vita nel pianeta e dunque una scienza per la sopravvivenza della vita sul pianeta non della vita umana e non un movimento di idee lui pensava una vera e propria disciplina per la quale ha trovato quel nome di bioetica bene mi sembra che se non abbiamo finito un'ultima anche se è già tempo no vabbè possiamo finire qua mi pare che fosse questa l'ultima domanda per non dilungarci necessariamente benissimo allora io vi ringrazio con questo mi faccio anche un'idea che era quella che sospettavo cioè che avete avuto modo di conoscere alcune tematiche di bioetica e questo è già una grande cosa è la cosa più importante in realtà per un pastore per un sacerdote eccetera per un teologo ma non conoscete le tematiche di bioetica generale e dunque che cosa è la bioetica eccetera e dunque questo mondo del binomio mentre quell'altro teologia morale spero lo conoscete bene e lo approfondirete ulteriormente nei vostri corsi e seminari questo mondo della bioetica vi è logicamente un po' sconosciuto dunque dedicheremo qualche ora a trattare queste tematiche riguardanti la bioetica va bene se non si può capire bene il confronto tra questi due mondi se non si conoscono entrambi benissimo allora grazie e ci vediamo se Dio vuole martedì prossimo buone cose e arrivederci